Oggi è un giorno importante per noi magistrati, insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno dato la loro vita a altri 25 magistrati, le famose 27 rose spezzate a cui l'ANM in queste giornate non solo presta il proprio ricordo ma addirittura vuole testimoniare. Noi abbiamo una grande eredità, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sostanzialmente ci hanno indicato il modo di essere e fare magistrati. Il magistrato deve essere sobrio, deve rinunciare con fermezza ad ogni tipo di compromesso, deve incarnare con naturalezza quello stato di legalità e deve avere quel senso etico e di dovere che fa il magistrato. Per cui noi non facciamo altro che in questi giorni ringraziare, non possiamo fare altro che ringraziare Paolo Borsellino e Giovanni Falcone per l'eredità pesante ma gioiosa che ci hanno lasciato.